benvenuti sul mio canale io sono frico e quest'oggi continueremo e molto probabilmente finiremo judgment nello scorso episodio abbiamo tra virgolette vinto il processo e hanno mandato dal ministero della salute la gente per uccidere la talpa che è Kuroiwa adesso dobbiamo andare a theater square perché c'è stata una speratoria e sembra che siano là abbiamo anche visto un video dobbiamo solamente farci strada mi è dispiaciuto troppo di vedere l'episodio così però purtroppo non volevo fare aia un video da due passa ore e non sarebbe risultato comunque godibile quindi io comunque me lo continuo di seguito e voi lo vedrete magari cerco di farlo uscire un giorno c'è dopo c'è un giorno sì un giorno no eccoci qua stavo dicendo magari cerco di farli uscire di seguito questi due video così risulta più continuativa la cosa attenzione che ci investono esagerati hanno assunto un bel po di gente ok attenzione facciamo un bel spinning simulator hanno non era quella che volevo fare allora attenzione volevo fare questo io in realtà perfetto sono tantissimi dalla camera please alla grande scusatemi per il locale però purtroppo è andata così ma si può anche mangiare no ovviamente no mi sembrava strano che mi dessero questa possibilità ossigio ma siamo già arrivati a 3 square in realtà eh vediamo un po cosa sta succedendo spero che non l'abbiano ucciso sinceramente dato che comunque lui infatti si sa difendere è decisamente sì secondo me non me l'aspettavo così però mi aspettavo un po' un contrattacco poi si sparasse poi dopo però va bene lo stesso e si sarà nascosto è ancora vivo no 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 dobbiamo andare al laboratorio segreto quindi Eh, pericolosa questa cosa che ha chiesto a Mafuio. Ah, non è il laboratorio segreto, ma è il CSFA. C'è della polizia. Che succede? Eh, fatemi entrare. Non sanno neanche più loro cosa fare. Ora, Hachi. Davvero la polizia dobbiamo combattere? Eccolo lì, Kuroiwa. Vogliono farci parte alla tempo. Eh, vabbè. Cosa fa? Passa a lui? Ah, abbiamo aggredito la polizia. Prigione assicurata. Eh, già. Sto arrivando, eh. Guardalo, che fiero. Sì, dobbiamo eliminare i primi poliziotti. È anche in fretta, perché Kuroiwa si sta muovendo. Pronti? Guarda. Guarda la musica, cazzo. Spero che continuino a fare... Judgment. Anche dopo il Lost. Cazzo, la... La OS... Porca puttana, l'SP. Ma stai scherzando? Mi stanno vedendo i brividi. Sta cosa fa sempre malissimo. Ebbè. Vediamo se riesco a fare lo Spinning Man. No? Va bene, comunque. Opla. Uno è morto. L'altro? L'altro forse no. Ma comunque ha poca vita. Molte. Per te la balla. Chi è che ha tenuto a fare una pistola? No. Subito l'ho sentita. Fermo! Cazzo no, le pistole no! Ok. Eh, stanno tenendo a fare tutte le pistole. Non voglio fare le mortali, per favore. Kid Medicina, non li voglio sprecare così. Bravissimi. Ok. Sto scherzando? Ok. Sconfiggi la polizia. Oh, ragazzo. Ci siamo comunque fatti strada. Eh, penso che riusciremo ad andare avanti solo noi. Riuscite a farci guadagnare tempo? Ah. Tutto sudato. Ahia. Sembra forte, lui. Guarda che dovrò usare la stile la tigra più che quello della gru. Conviene. Sperando che non abbiano pistole. Non sembra. Ammela che non le girino fuori. Speriamo di eliminarti. No, mi ha parato tutto. Mi ha parato. Eh, bravo. Eh, ha anche rotto le balle. Sprecatissimo, però... Era anche per... Stabilire un concetto. Di non rompere le balle. Non sembra una vera e fasi... Ma chi mi ha detto di tirare mia roba? Questi due non sembrano una vera e fasi. Stavo dicendo. Quindi sono abbastanza semplici da eliminare. Ci fanno solamente perdere un pochino di tempo, però. Oh, ho trovato fuori le pistole. Oh, guarda, bloccalo. Ok. Alla grande. Riesciamo ad entrare? Le guardie... C'era la security. Non possiamo scavalcare? Una tesserata d'oro serviva. Esatto. Però non ce l'abbiamo. Non mi sembra il momento. Potreste scavalcare. Dove la troviamo? Una chiave d'oro? Tre minuti alla chiusura. Quindi ho tre minuti per trovare una chiave d'oro e tornare. Voglio darmi una mossa. Eh, sì. Qua? Solo un orologio. Uh, qua. Grandissimo. Con questa potrà scendere dall'ala di ricerca. Interrompi. Non è... Non è... Ah, ok. Stavo dicendo... Non è dorata, stavo già dicendo. Ok, riusciamo a fermarlo? Niente, lì ne frega. Vieni qua. Maledetto. Aia. E adesso come facciamo a raggiungerlo? Alla Resident Evil 5. Fammi la scala e te mi lancio, vai. Alla faccia. Ouch. E su qui ora sta bene? Questo devo aver fatto malissimo. Eh, abbiamo fatto un bel volo. Un bel volo. Ah, è vero, ciao Hai ancora il tuo taser? Sembra di sì Spacciate addirittura Però lui ha la seconda fase Aia Perché avete pistole? No, 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 no Dovete preparare Ok, adesso dovrei più che altro Prendermi una cura Però non è arrivato ancora il momento Lo facciamo entrare almeno in fase 2 Poi è un po' sprecata perché adesso si blocca la vita Non ho fatto niente perché dovevo entrare nella fase Peccato Aurinar Ci prendiamo Tramezzini Ce le finiamo Ok, siamo a full vita Ma ha fatto malissimo Ma abbiamo fatto una contromossa Prendiamo No Attenzione No, peccato Beh, ve la faccio adesso la massano Ok Irrompi Siamo comunque più forti rispetto a prima Tu sei rimasto la stessa Della stessa potenza, diciamo Ok Mi sarebbe piaciuto potenziare l'attacco al massimo, però questo devo ammetterlo. Eh, una bella commozione cerebrale, preso. Cazzo. Ci siamo buttati in un palazzo e sei caduto su una macchina. Eh, non lo so, eh. In prima persona dobbiamo andare. Non lo so, a me sembra messo malino, eh. Migliorare l'abilità, eh, ma non abbiamo punti per migliorare l'abilità come vogliamo. Abbiamo 2700 punti, ma dovrei usarli, giusto per dire che li sto usando. Perché non ho abilità forti. Adesso le ho potenziate tutte. Giusto per dire che le sto prendendo, ma ecco, lo turbo non è che me ne faccia molto in questo momento, ecco. Facciamo attenzione a non cadere giù. Che cazzo, ah. Ok. Oh, Kubo. Mi ha preso un bel colpo, eh. Andiamo all'ascensore. Ci sei, suggerà? Sì. Lui sembra a posto. Non ha preso colpi. Eh, no. Ciao, Shintani. Si è aperta la porta. Possiamo andare? No, non posso muovermi. Ok. C'è, mi adesso? Oh, brava, sì. Stiamo andando belli piani, eh. Lui non si aspetta di nulla, scusa, ma aiutaci. Eccola qua. Con lui. Versione avvocato. Sì. E' quello che sta cercando di fare. E' quello che sta cercando di fare. Ah, sì? Anche tu? No, lo so. No, lo so. Non credo, però. Ah, sembra di sì. Vediamo, Kuroiva. Di qua? Sì, 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 hai ragione, hai ragione. Ah, piovendo dentro, ahia, c'è un vetro rotto. Completamente vuoto, il centro della ricerca. Non credo abbia avuto il tempo di scappare, ecco. Amora? No, chi è? è Shono oh oh perché si è vestito da da talpa hai visto in che senso ahia così non lo prendi vivo però lo vuoi vivo per cosa? no l'hanno colpito merda me lo immaginavo no che stanno usando come film horror eh anche noi siamo messi in male non ce la fa lui forse con Shono si eh finiti i colpi adesso spero che tu non abbia un altro caricatore ecco dobbiamo ricombatterlo ma bella mira però in che senso per essere salvati se anche tu soffrete demenza? non credo sei troppo lucido eh un pochino si combattimento eh però non perdo vita mi sono immaginato di perdere vita con la commozione cerebrale poco poco a poco a poco ok di nuovo ci riempiamo la vita al massimo perfetto ci curiamo mi pare la spiritosa ahia ahia fa più vita adesso comunque questa è la battaglia finale sicuro però io ho maledetto no che dolore minca fa delle attacche caricati pesantissimi noodle successivo ok stronzo la vera talpa questa ha sbloccato il suo vero potenziale va bene è una barra tolta va ok non mi piace è una barra anche non mi piace mi piace che c'è la non mi piace aia ma sto scherzando cosagerati super scenografico mi piacciono troppo queste cose dimmi ti stai potenziando e beh certo ci potenziamo anche noi va male vediamo se riesco a fare anche questa mossa no non hai capito oh si che ce l'ho fatta dalla grande ho usato l'hit al meglio attenzione dobbiamo giocare un po' di schivate questo ci fa malissimo eh io mi curerei per sicurezza ma perché no eh certo ti lascio fare la mossa infatti credici fortemente non uccidere la talpa morto non è finita non è finita e beh certo guardate credi che fosse così facile oh oh adrenalina credo proprio di sì come scusa ma sto scherzando spero oh basta ma che cazzo di vita è ok due colpi quindi mi stordisce la stronzo eh vabbè attenzione siamo di astratto ma dov'è anche di tauriner avrebbe dovuto fare scorta dovresti volare fuori e morire però purtroppo non è così attenzione cosa ci fa malissimo io direi di continuare con l'attacco potente ti è piaciuto? questa è la cosa della tigre che blocca l'attacco potente però non mi da il comando cioè nel senso tranquillo non preoccuparti è come cazzo ti pare eh vabbè mi valza la pena oh weii attenzione cosa cazzo è questa questa aggressività attenzione mi stai facendo male 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 quindi io devo mangiarci dei tramezzini furtività fortuna crescita eh ma la gru non la sto usando usiamo la mobilità eh vabbè questo mi ma mi ammazza malissimo sto finendo il cibo che mi cura sta facendo male ma male per farmi male sto… mi fa alla combo mi fa malissimo ci calmiamo no 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 devi allontanarti perché questo sono morto aiutate me Non sono riuscito a schivarla Oh, mille punti Eh, oh, le scorte di cibo sarebbero anche a quello Non lo deve uscidere, non lo deve uscidere Yagami È il nostro testimone chiave, Yagami Avete raggiunto l'accordo? Eh, io Va bene, immagino Vabbè, hai ucciso anche dei poliziotti Yagami Oh, oh Shono, che cosa vuole fare? Shono? Cazzo Vabbè, l'avreste potuta sparare le gambe È ancora vivo Alla faccia Ha comunque vinto Gelo inietta Eh, vuole iniettraglielo per... A prendere comunque Informazioni È impazzito, ormai è impazzito È un po' oh sta mettendo tutto davanti alla polizia davanti al video che stanno facendo abbiamo vinto niente da dire come facciamo comunque a far scagionare gli abe stiamo facendo tutto sul csa 9 ah certo proprio per quello a Egoismo Se lo sta iniettando Se lo inietta Si sta praticamente suicidando Se lo iniettando E invece ti sei solamente suicidato Egoi 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 Aiuto Per quello cavavo gli occhi Per non far vedere che avessero iniettato Egoi 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 Si comunque ha fatto tre anni in prigione Il fratello Egoi 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 Ci fanno vedere un po' di passato? No. E adesso che stiamo cominciando a farci conoscere? Chissà, magari nel prossimo facciamo anche dei casi da avvocato invece che da detective. Mi sarebbe male. Ma che noi scambi a farci conoscere? I mi sarebbe letta. Che non aveva mai un po' di passato? Che si è? Cosa? Faccio, ma mi sarebbe stata una scambi. Ma che segunda cosa, poi fecato ho una scambi a fare un sottotitore. Beh, è vero. Per quanto riguarda l'idea, l'idea è più importante. E' più importante. Beh... Ma... Ma... Un caso Guarda come si divertono Prendolo tutto sul serio però Finito? Lo fanno finire così? Allora ragazzi Questa è stata una delle storie più belle Che mi è piaciuta Nella serie dell'Yakuza Forse nella top dei giochi che mi sono piaciuti di più Sarà perché è un Diciamo un cambio di rota E cambio di personaggio Quindi un po' fresco Sarà per la via dell'essere detective Roba legale Ma lo so comunque Mi è piaciuto davvero tanto Quindi non vedo l'ora di giocare Lost Judgment Grazie per aver seguito Grazie per aver guardato il video 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 Vediamo se c'è qualcosa dopo i titoli di Coda Che cos'è c'è? Il gatto che stiamo cercando Porca puttana tanto giusto di idiozia per essere un cazzo di capolavoro Grazie per la visione 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 Grazie per la visione